Ciao a tutti sono Bonf777 e benvenuti in questo nuovo contest del mio canale Questa volta il vincitore vincerà The Rossi Team of the Season Sperando che possa portare fortuna all'Italia mondiale Partecipare come al solito è semplicissimo, basta Essere iscritti al mio canale Mettere mi piace a questo video Condividere questo video E commentare scrivendo partecipo e il nome della vostra console In modo tale che io mi riesca ad organizzare E riesco a dare subito la carta visto che io ho Xbox E in caso di vittoria di un utente con Playstation Riesco ad organizzarmi con un mio amico per consegnare la carta Siccome ci sono state tantissime richieste di utenti con Playstation Che volevano partecipare al contest La scadenza è domenica 6 luglio alle 23.59 E io grazie a random.org registrerò l'estrazione del vincitore Che caricherò sul canale Spero che partecipiate in tanti e buona fortuna Da BAM7777 è tutto, ciao a tutti